Test positivi, quelli effettuati dagli operai dell'AMAM che ieri hanno riattivato una dopo l'altra le quattro pompe della condotta idrica danneggiatasi a Calatabiano sabato scorso. Resta alta l'attenzione su tutto il territorio da parte della protezione civile, con particolare riguardo all'area di Contrada Piraino dove è collocata la condotta idrica, soprattutto in vista delle avverse condizioni meteorologiche. Il servizio di Agata Cirelli. Torna l'acqua a Messina. A Calatabiano in Contrada Piraino ieri sera sono state riattivate tutte e quattro le pompe della condotta idrica dalla portata massima da 1000 litri al secondo. Per il vuoto creatosi la portata è ancora ridotta della metà, ma i messinesi tornano a respirare dopo il guasto alla condotta verificatosi sabato scorso. Si è raggiunto il flusso idrico massimo che è di 1000 litri al secondo, anche se mi dicevano che per l'aria che c'è dentro la condotta probabilmente a Messina arriverà quasi metà della portata, almeno fino a metà di questa mattinata. Intanto ieri sera, dato l'avviso di allerta a meteo diramato dalla protezione civile regionale, come stabilito di concerto con l'amministrazione comunale di Calatabiano, è stato attivato il presidio sul territorio con il COC, i volontari del NOES e la protezione civile. Da questo punto di vista c'è stato un monitoraggio continuo, anche in previsione del fatto che ci dovevano essere delle piogge abbondanti già a partire da questa notte. Il fatto che non ci siano stati è assolutamente positivo perché ci ha permesso di operare e di non fare in modo che la situazione si potesse aggravare. Non sono state osservate criticità di rilievo incontrate a Piraino, ma si continua a monitorare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche. Anche oggi è un giorno importante per verificare se di fatto una conduttura di quel tipo può rimanere là. Io voglio immaginare che si AMAM trovi una soluzione alternativa. Ora che siamo pare uscito dalla situazione emergenziale, che si parli di rischio idrogeologico e che si scongiuri magari che questi eventi, che già nell'84 avevano visto protagonista in negativo che il comune di Calatabiano, possano ripetersi, visto che comunque quel territorio ricade in una zona ad altissimo rischio idrogeologico e che molte delle culture sono state abbandonate, quindi anche all'opera l'azione continua dello stesso condadino che aveva una sua micro azione ma che comunque c'era di era costante, anche solo di monitoraggio e dire che c'erano delle criticità in atto. Questo oggi non c'è più e quindi immagino che si voglia trovare una soluzione che AMAM trova una soluzione alternativa per fare in modo che Calatabiano non si trovi quella bomba d'acqua sulla testa.